I play-off in Lega Pro cominceranno secondo programma e senza alcun rinvio. Solo una Budad, quella del dirigente napoletano e componente del direttivo di Lega, avvocato Francesco Maglione. Lo stesso presidente Gabriele Gravina ha confermato che al di là dei deferimenti di diversi club per problemi di natura economica, non ci saranno rinvii, ma tutte le decisioni saranno prese dagli organi competenti entro il 7 maggio prossimo. Maglione, in un'intervista rilasciata la scorsa settimana, aveva dato l'annuncio creando allarme e disorientamento tra gli addetti ai lavori. L'ex DS di Nocerina, Savoia, Benevento e Ancona, ha fatto una gaffa clamorosa, puntualmente corretta e smentita dalla governanza della vecchia terza serie. Insomma, una vera e propria autorite. Le tre campane, Juve Stabia, Paganese e Casertana dunque, possono tranquillamente continuare il loro programma di lavoro, considerato che a meno di clamorose sorprese il terzetto al gran completo prenderà parte agli spareggi promozione. Le vespe, come noto, puntano a mantenere il quarto posto e devono rispingere l'attacco della matricola siracusa. In questa ottica sarà decisiva la trasferta di Agrigenta di domenica prossima. Paganese sotto Torchio, già da tre giorni per il match contro il Lecce al Torre, dove con una vittoria si brinderebbe alla qualificazione con una giornata d'anticipo. Per la Casertana è impegno esterno da non sottovalutare, ma con il morale alle stelle. Ricordiamo che domenica tutte le gare si giocheranno in concomitanza, con fischio d'inizio previsto alle ore 14.30. Per la Casertana è impegno di domenica prossima.